Saluto da Mario Giuliaci. Una grande novità, quasi invernale in vista, nevicate abbondanti su tutte le regioni alpine tra il 10 e il 19 di novembre. Nevicate che potranno raggiungere valori anche di 2,5 m su gran parte delle regioni alpine più vicine al nostro versante di confine. Ma queste nevicate saranno per lo più tra i 1000 e i 1500 metri e come dicevo potremmo raggiungere valori cumulativi nei prossimi 10 giorni di 2,5 m su gran parte delle regioni alpine. Le quote saranno intorno a 1000-1500 metri, quindi a quote direi veramente gradevoli, soprattutto per gli sciatori. Ma andiamo con ordine, qui avete visto il lunedì, qui le nevicate di martedì, vedete in martedì il celeste sta a indicare accomodi intorno a 10 cm, ma il rosso acceso sta a indicare già 20 cm. Queste le nevicate di mercoledì, mercoledì solo sulle Alpi centro-orientali appena 10 cm. Giovedì invece nevicate significative su tutto l'arco alpino, ma soprattutto sulle Alpi centro-occidentali avremo accomodi intorno a 20-30 cm. Arriviamo adesso a venerdì 13 quando le nevicate saranno super abbondanti sulle Alpi centrali dove sfioreremo i 60-70 cm, comunque nevicate significative su gran parte dell'arco alpino. Questo sabato 16 nevicate su tutte le Alpi, ma nevicate più abbondanti sulle Alpi orientali. Domenica 17 nevicate abbondanti su tutto l'arco alpino fino a 60-70 cm. lunedì 18 ancora neve tra i 10 e i 15 cm e infine martedì 19 ancora nevicate abbondanti tra i 15 e i 35 cm. Questa è la comodata delle nevicate nei prossimi 10 giorni. Il colore grigio chiaro sta a indicare valore superiore a 220 cm, il grigio scuro valore superiore a 180 cm, che vedete la maggior parte delle regioni alpine avranno accumuli superiore ai 180 cm, ossia quasi 2 metri. La quota neve ribadisco 3.000-1.500 metri. Termino qui un carasolto ancora da Mario Giuliaci.